ciao ragazzi bentornati oggi un video che mi è venuto in mente perché stavo preparando la cena e ho pensato che magari a qualcuno poteva essere utile allora siamo in estate c'è caldo nessuna voglia di cucinare non abbiamo voglia di accendere i fornelli però comunque dobbiamo mangiare quindi cosa facciamo io vedo un'idea per una ricetta da fare una ricetta non è neanche una ricetta è l'assemblaggio di alcuni ingredienti che magari avete così buttati dentro il frigorifero e non sapete che farne io vi do una piccola idea appunto su come unirli per preparare una cena molto molto sostanziosa vi dico la verità è molto sostanziosa con tante proteine le proteine del pesce perché andremo utilizzare il salmone affumicato e le vitamine dell'avocado e dei pomodori perché andremo a metterci anche quelli e poi tutto il resto delle altre cosine che possono essere che sono assolutamente opzionali e quindi potete mettere o non mettere adesso vi lascio la clip spero che l'idea vi piaccia vi mando un grande bacio ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao